metto il titolo mi da sempre un po' di problemi metto il titolo ancora se non lo volesse ciao Renata, ciao Martina ciao Chiasa, ciao Paolo eccoci, arriviamo subito sto mettendo in alto sto fissando in alto il ciao Progetto GG ciao Tiziana, ciao Egri Bianco allora Amokina Mon Amour 34esima puntata di 40 perché a 40 finiamo trovate le precedenti puntate su Youtube le stiamo mettendo anche su IGTV sempre grazie alla nostra Martina Colucci oggi l'ospite è Linda Eroli neo-presidente di Assitej Italia una breve introduzione Assitej Italia è la sezione italiana di Assitej International leggo dal sito organizzazione mondiale che opera dal 1965 e riunisce centinaia di teatri e organizzazioni artistiche e culturali nei centri nazionali di oltre 80 paesi raggruppa artisti e compagnie teatrali che si dedicano professionalmente alla creazione di un teatro per il pubblico giovane e intende promuovere la qualità e il significato culturale del teatro per l'infanzia e la gioventù Assitej Italia sezione italiana dell'associazione mondiale rinasce all'inizio del 2014 raccogliendo l'eredità di ATIG associazione italiana di teatro per l'infanzia e la gioventù fondata nel 1967 per svilupparne l'ascito e impegno a favore del teatro e della creazione artistica rivolti a bambini, ragazzi e famiglie attraverso nuove progettualità nazionali e internazionali intanto vi invito a premere l'aeroplanino per condividere la diretta con qualche vostro amico che magari in questo momento è un po' distratto vi invito a fare domande premendo il pulsantino del punto interrogativo e vado alla Romero cosa vuoi dire? dai va bene Romero ci vediamo dopo adesso devo tutto da fare ok ciao mia assistente se c'è Linda buonasera ciao Linda mi senti bene? io sì tu mi senti bene? benissimo come stai? abbastanza bene senti ma è la tua prima compatibilmente col pericolo beh certo senti ma è la tua prima diretta Instagram? sì giuro si vede? non sei la sola di questa di questa rubrica che mi ha detto che era la prima ma ecco voglio dire è una cosa molto nuova quindi si lo fate su Facebook ok sì ho fatto ho partecipato anche a una a una trasmissione radio diciamo che metteva metteva insieme switchava Facebook e Skype ma questa no ok senti cara come va? va bene e te l'ho già chiesto scusami la prima domanda è quella che sto facendo un po' da una settimana che vedi dalla finestra dove sei che vedi se c'è gente in giro assembramenti racconta tu dove sei in Emilia Romagna dove di preciso? a Reggio Emilia ok a Reggio Emilia sto in una casa singola in un quartiere particolare con casettine singole varie ho la fortuna di abitare sul lungo crostolo che è questo diciamo un torrentino sempre abbastanza basso di solito limaccioso e di gente se ne vede proprio poca perché siamo abbastanza digi gli emiliani sono molto digi al dovere di gente se ne vede poca i romani insomma i romani insomma l'altro ieri c'era un movimento sotto casa qui a Roma io sono tenito di romani eh per cui però ecco ti posso raccontare una cosa che ho visto che appunto il fiume in questo periodo questo fiume insomma che non è un fiume è un torrente è molto bello è più bello del solito allora sono scesa più pulito eh sì eh sono scesa con mia figlia è miracolo abbiamo visto dei pescioni dei pesci enormi questo è una ecco non abbiamo visto tanta gente ma i pesci sì la natura si sta rimpossessando del territorio abbiamo visto le anatre a Firenze le volpi non mi ricordo dove i cinghiali da qualche altra parte a Reggio Emilia i pesci le carpe le carpe giustamente senti cara andiamo nello specifico tu sei stata eletta presidente di Ascitege pochi giorni fa vero? sì noi siamo ci definiamo l'esecutivo virale perché siamo stati eletti come il nuovo esecutivo è entrato in carica il 25 in realtà è stato eletto a settembre con un meccanismo che non ti sto a spiegare però siamo entrati in carica il 25 di marzo e anche quella con un inedito che è stata la prima assemblea online di Ascitege Italia ed è stata un'assemblea secondo noi bellissima anzi secondo noi bellissima perché comunque eravamo in 77 su Zoom? no l'abbiamo fatta su Google Meet ok eravamo collegati in 77 abbiamo tre mani dall'ultimo secondo che le cose andassero male invece anche lì c'è stata una disciplina straordinaria e tanta voglia di sentirci questa era la cosa abbiamo voluto fortemente questa assemblea anche in forma ridotta l'abbiamo studiata perché non fosse appunto perché trattasse il minimo indispensabile ma era importantissimo esprimerci una presenza ecco in un momento che è necessario certo anche da parte mia confermo quello che dici anche io mi sto attivando per sentire più persone possibile anche cercando dei pretesti vari reti colleghi eccetera perché paradossalmente in questo distanziamento al quale noi dello spettacolo del teatro non è che siamo molto abituati perché comunque chi più chi meno in giro per spettacoli incontri eccetera quindi in qualche modo meno male ci sono le tecnologie che ci aiutano a fare io ho fatto anche il trivial su Skype domenica sera per dire questo è stato molto divertente comunque senti so che Assetage Italia continua in perterrita la sua attività fortemente anche diciamo tra virgolette influenzata se mi passi termine dal virus ti va di raccontarci un po' le attività che state portando avanti in questo momento? sì guarda innanzitutto ovviamente Assetage come tu dicevi prima occupandosi di teatro per le giovani generazioni e con una prospettiva sia nazionale che internazionale ecco dal punto di vista nazionale siamo stati praticamente tra i primi ad accorgerci a percepire quello che stava accadendo come appunto la catastrofe la catastrofe mi sembra un termine ovviamente per quanto riguarda le attività extrascolastiche immagino eh sì perché noi praticamente appena le scuole hanno smesso di uscire cioè prima ancora che chiudessero prima del lockdown c'è stata appunto la direttiva per cui le scuole non potessero più uscire quindi i teatri immediatamente hanno dovuto sospendere tutte le attività rivolte alla scuola che per noi sono in questa fase del cioè diciamo tra febbraio e marzo e aprile è il lavoro principale cioè è un'attività enorme erano proprio i mesi clou delle attività teatrali per le scuole per le nuove generazioni per intenderci io poi appunto ho smesso di contarli ma solo solo tra febbraio e marzo ho cancellato 36 spettacoli nella mia programmazione ci stiamo parlando per cui moltiplichiamo questa cosa per tutti i teatri italiani appunto una delle azioni sarà sicuramente quella di non appunto mettendo a servizio qualche diciamo uno sguardo differente rispetto a quelle che già ci sono ma è quella di proprio di implementare anche il monitoraggio che già si sta ampiamente facendo da parte di alcune regioni o di alcune realtà dando proprio cercando di capire come Asiteg ci stiamo lavorando ci stiamo ragionando di capire come Asiteg può fare in modo per raccogliere dei dati che vadano a implementare dal punto di vista proprio del teatro ragazzi e della molteplicità e frazionamento anche proprio identitario che c'è all'interno già del nostro settore ma che poi quando si va a parlare di teatro ragazzi diventa dall'associazione culturale alla cooperativa al singolo abbiamo un frazionamento cooperative associazioni territoriali parrocchie tanti programmano tantissimi e quindi si è necessario proprio per capire anche la portata di quello che è accaduto ma in funzione di ciò che può accadere e ciò che accadrà ecco insomma di avere un quadro un pochino meno anche frammentato certo avete anche come dire siete anche in network ovviamente con tutti i vari assetage che appunto forse l'ho detto anche prima sono 80 mi sembra no? sì 80 paesi quindi c'è una condivisione un po' come dire della situazione a livello europeo ed extraeuropeo in questi giorni immagino mi dici qualcosa su questo? sì guarda appunto quando tornando indietro appunto quando abbiamo percepito per primi o quasi per primi questa situazione noi il 24 di febbraio abbiamo fatto un comunicato che abbiamo appunto condiviso sui social sì e che ha avuto più o meno un'interazione con 25 mila persone che non erano solo italiane perché l'Italia sappiamo cioè è stata tra i primi paesi ad essere colpito quindi abbiamo avuto immediatamente una connessione con tutti i nostri colleghi man mano che appunto la pandemia assumeva anche e andava a toccare il lavoro e la realtà di altri paesi si sono sviluppate alcune riflessioni alcune progettualità e anche un confronto che sanamente c'è anche proprio in modo sano il confronto a livello internazionale tant'è che noi per esempio una cosa che abbiamo fatto abbiamo aderito a una dichiarazione delle istituzioni teatrali europee che è stato promosso proprio da Assetage International ed è stata inviata all'Unione Europea e ai paesi membri proprio perché ci fosse una sensibilizzazione verso provvedimenti e azioni da compiere a livello europeo cioè superando anche una visione strettamente nazionale e questa è stata una delle azioni delle prime azioni che abbiamo fatto che stiamo facendo guardandoci come Italia all'interno anche di una complessità che è una complessità appunto non strettamente nazionale ed è un'altra azione per dirti che secondo me è molto bella e molto importante è quella con uno sguardo appunto e che internazionale e che riesce a far propria anche una modalità un pochino più interessante più complessa è quella di stamattina cioè stamattina abbiamo fatto noi facciamo parte di Reazione a Catena che è un progetto nato in seno ad Assitej che vede come capofila il festival Segni di Infanzia e questa mattina c'è stata la prima webinar con un direttore con il direttore del festival April che è un festival danese con Heinrich Köhler proprio per confrontarsi con lui rispetto a quelle che possono essere delle prospettive quali sono le azioni che possibili come si sta muovendo la Danimarca anche semplicemente per comprendere delle buone pratiche per capire anche negli altri paesi come stanno reagendo e certo e praticamente da oggi per una serie di martedì mattina ogni mattina ci saranno questi webinar con dei direttori internazionali il prossimo sarà con una direttrice del festival con Tatiana Boborova che è una direttrice del festival russo del King Festival cioè è uno creiamo appunto delle opportunità affinché ci si possa ampliare anche la riflessione con altri ecco senti questi incontri sono fatti cioè sono tutti i soci Assitage col direttore o alcuni chi vuole come sono una delegazione direttivo la catena appunto mette insieme una è chiesto spiegartela una no vabbè ok sì c'è un'apertura anche ai direttori di festival e a festival di teatro ragazzi che non sono strettamente legati ad Assitage perché abbiamo appunto all'interno di Assitage è nato un tavolo sui festival e sulla necessità di un confronto e anche di creare delle sinergie un termine un po' antico tra i festival di teatro per ragazzi dopodiché è nata la necessità anche di aprire questo confronto a festival e realtà che non fossero strettamente legati al mondo Assitage anche se Assitage ha un po' un ruolo di coordinamento e di insomma è un imprimatur in questo caso appunto è anche il festival segni di infanzia ad essere capofila di questo progetto che è un progetto squisitamente internazionale e vede coinvolti sette festival sono tutti soci Assitage e che a me dovevamo presentare se lo dico perché è importante noi avevamo un congresso mondiale di Assitage il diciamo la seconda metà di maggio che ovviamente salta e verrà spostato nel 2021 per cui insomma è stata una bella una bella perdita e in questa occasione noi avevamo diversi progetti italiani eravamo molto contenti avevamo lavorato un sacco per per arrivare a questo congresso e presentare al mondo alcune progettazioni una di queste appunto era la reazione a catena tutto rimandato tutto rimandato senti c'è una domanda Tiziana dice soluzioni per truccatori e parrucchieri dello spettacolo ma in generale tutto il comparto tecnico cioè come dire soluzioni non ne vediamo al momento perché non sappiamo cosa accadrà dobbiamo lavorare un po' navigare a vista come si suol dire è chiaro che oltre a una problematica di fruizione c'è una problematica grossa di produzione degli spettacoli e quindi anche per chi si occupa dei costumi e dei trucchi o il parrucco ovviamente a tale proposito forse la stagione estiva ci può aiutare perché all'aperto possiamo sopperire appunto al problema che ci sarà nei teatri poi ci sono delle fughe di notizie io non le sto leggendo perché non c'è niente di ufficiali sulla riapertura dei teatri boh cioè non lo so anche le scuole idem senti non so se vuoi aggiungere qualcosa soluzioni per truccatori e parrucchieri dello spettacolo attualmente non ne vedo ma io quello che penso è che noi dovremmo dovremmo pensarci un po' tutti insieme nel senso che in questo momento c'è proprio come tu dicevi c'è un problema generalizzato dei lavoratori dello spettacolo è un settore nostro profondamente frammentato e lo sforzo che dovremmo fare in questo momento è appunto non pensarci frammentati ma pensarci tutti insieme per dire questo ti dico anche un'altra azione Assitej non è una associazione di categoria è un'associazione appunto culturale con un'ottica una visione proprio culturale però quello che noi abbiamo fatto che ci è sembrato importante fare è mandare una lettera il 20 marzo alle associazioni di categoria che in quei giorni e che prossimamente saranno e sono stati al tavolo con il MIBAC e per dare la nostra disponibilità uno per ringraziarli per il lavoro che stavano facendo ma anche per dare la nostra disponibilità appunto attraverso un contributo che poteva essere che è un contributo che abbiamo esteso a tutti quanti proprio perché riteniamo che in questo momento sia importantissimo anche farci percepire come comparto come realtà e non appunto non come singoli perché diventerebbe molto faticoso e sicuramente qualcuno resterebbe indietro e soprattutto ovviamente quando rimangono indietro rimangono indietro quelli più più piccoli più deboli quelli meno meno rappresentati e questo non lo vogliamo benissimo senti cara ti volevo citare due cose accadute proprio in questi giorni per poi chiederti un parere anche nell'ottica del teatro ragazzi ad esempio Silvia Gribaudi con cui ci iscriviamo è stata anche ospite mi manda dei messaggi forse ci sta anche seguendo adesso rispetto al festival Interplay si parla di danza il festival di Torino che verrà fatto in streaming e viene proposto alle compagnie di realizzare un video di backstage credo anche con possibilità poi di interazione intervista ecco la Silvia ciao Silvia se sbaglio dimmi se sbaglio dimmi Silvia io sto leggendo quindi in streaming non lo spettacolo che quindi no perché il teatro è dal vivo eccetera ma un prodotto video preparato ad hoc diciamo proprio realizzato per l'occasione sempre in quest'ottica qui ne ho parlato ieri lo rilancio l'ho letto sulla lettura del Corriere della Sera è uscito il trailer di uno spettacolo che anche quello è un video realizzato dalla fondazione Ater Balletto di Reggio Emilia quindi tra l'altro della tua città pensate a Fagiolo proprio che c'era l'intervista al direttore artistico Cristo Foretti che diceva che questo contenuto che quindi è un video che monta a soli di danza realizzati dai danzatori nelle loro case garage eccetera anche quello è visto in un'ottica anche di possibilità future di mercato cioè proprio vendere chiaramente un'altra cosa che non è teatro e siamo tutti d'accordo su questo però ah ecco Silvia dice noi abbiamo immaginato un Grace di fare un dietro le quinte quindi è un'opzione scusa torniamo alla cosa di prima magari altri hanno fatto altre cose tu pensi una cosa così potrebbe essere possibile nel mondo del teatro ragazzi tenendo conto che si ha a che fare con l'infanzia e quindi chiaramente l'audience è un po' diverso rispetto a quello della danza contemporanea sì io penso che io quello che penso penso che i media sono mezzi hanno tutti delle potenzialità diverse appunto l'errore adesso l'errore in questo periodo stiamo vedendo tante cose di vario genere varia qualità credo che appunto la forza possa essere proprio nella nella capacità di sfruttare al meglio il media il mezzo in base a quelle che sono le proprie le potenzialità del mezzo certo riprodurre semplicemente uno spettacolo sul mezzo ovviamente diventa limitativo rispetto a quello che possano essere appunto che possano essere le due proprio le vocazioni e i linguaggi diversi quindi è una sfida che noi non possiamo non cogliere diciamo in questo momento e che è molto interessante sì ho visto io l'ho visto il video di Aterballetto ma certo il trailer perché il video mi sa che debutta il 29 aprile giornata internazionale della danza hai visto un trailer di due minuti l'ho visto anche io il trailer l'ho visto sì è un periodo che ci apre la possibilità di fare delle sperimentazioni sicuramente perché che è sempre stata la storia della storia dello spettacolo dal vivo nel senso che le limitazioni adesso non vorrei dire la solita cosa della famiglia che è l'ingegno però le limitazioni a volte sono una sfida e possono essere anche una risorsa di ricerca ma è evidente che questo va pensato sempre all'interno di una cornice che è una cornice appunto professionale nel momento del nostro lavoro io questa cosa la dico perché stamattina ho visto questa striscia di zero calcare che in cui si afferma la necessità di un riconoscimento anche dei lavoratori dello spettacolo in quanto tali cioè quello che sto vivendo in questo momento è tanto tanto anche lavoro gratuito che viene fatto e viene richiesto pensando che appunto mandare un video sia molto più semplice e possa essere certo ecco io su questo aprirei anche una riflessione perché è necessario pensare anche che appunto ha una tutela del lavoratore dello spettacolo anche nel momento in cui si attiva su delle piattaforme che sono piattaforme appunto gratuite per gratuite insomma come possono essere i social eccetera certo però Franz per confermare quello che stavi dicendo dice tutte queste modalità sono espedienti per mantenere il contatto con un proprio pubblico non possono in alcun modo essere mezzi per la sostenibilità delle imprese ha ragione però è chiaro che un video c'è un montatore che lo monta c'è magari un sound designer che fa una tona sonora c'è qualcuno che ci lavora c'è ovviamente insomma è tutto molto in divenire io non è che sono per ma in generale allora tra l'altro ti dico anche questa cosa il teatro ragazzi è un teatro che per sua natura ha sempre goduto e giocato con la contaminazione dei linguaggi è uno di quei teatri c'è il teatro che ha sempre un po' superato le barriere tra prosa danza e quindi da un certo punto di vista si trova in una posizione di costante sperimentazione ma proprio perché confrontandosi con un pubblico che è un pubblico in evoluzione crescita l'ha sempre dovuto anche un po' fare e proprio in questo ci sta ci sta la sfida e la possibilità di sviluppare anche maggiormente l'interazione con altri strumenti che non sono cioè diciamo che non sono consueti di questa necessaria mancanza del corpo infanto il corpo fisico allora guarda c'è un'altra domanda te la metto qui guarda eccola qua di Bellatrix quale sarà il ruolo e questo è difficile Linda questa è tutta tua quale sarà il ruolo del teatro per le nuove generazioni nel riavvicinare il pubblico al riabitare i luoghi dello spettacolo questa è da un milione di euro sì sì ciao Anna non so chi è per cui lo sento allora ripeto la rileggo che non ho questo è il ruolo del teatro per avvicinare al pubblico io credo che sempre la cultura ha un ruolo che è sociale e quindi nell'avere questo ruolo nell'avere un ruolo sociale possiamo fare tanto possiamo fare tanto anche proprio in termini anche di proprio attraverso la rappresentazione attraverso la metafora attraverso anche ovviamente non dobbiamo mai confondere i termini tra intrattenimento e cultura intrattenimento e teatro e aggregazione e teatro questo è fondamentale però effettivamente possiamo più noi di tanti altri essere anche complici di una di una di ricreare delle connessioni sociali in un momento in cui ovviamente si sono interrotte si sono interrotte questa era proprio la domanda ed è anche il motivo per cui noi adesso come appunto come Assitej abbiamo creato un gruppo di riflessione è che è un gruppo di riflessione che avrà il primo incontro un gruppo di riflessione interno ad Assitej che avrà il primo incontro domani dopo domani 16 dopo domani e che è una delle domande cioè la cosa che intendiamo su cui intendiamo riflettere non è appunto non è tanto sulle contingenze e sulla situazione attuale ma anche proprio quale possa essere il ruolo del teatro per ragazzi e per le giovani generazioni rispetto appunto a quello che è il futuro e l'ambizione che abbiamo è quella di scandagliarlo sia dal punto di vista artistico poetico ma anche proprio dal punto di vista organizzativo di mediazione culturale di relazione con le istituzioni per cui questo tavolo appunto vuole andare oltre il momento attuale per già per confrontarsi e capire come muoversi rispetto agli scenari futuri e dare anche un contributo ovviamente tentare di dare un contributo proprio in funzione di una di una di una una riconnessione io dico in questo senso con con il col teatro il pubblico cito chiara saponari che saluto noi col tpo abbiamo realizzato un video dedicato a tutti provando ad inserire un po' tutte le nostre caratteristiche io non l'ho visto però c'è questo video a cosa serve è un video di tutorial diciamo tu Linda l'hai visto sì l'ho visto è un video che mette appunto dove c'è musica mette insieme i linguaggi appunto quello che dicevamo prima ok una delle campagne che sui linguaggi di ricerca e proprio anche sui linguaggi tecnologici certo sì l'abbiamo pubblicato e sulla sulla pagina facebook di Assitej dove me lo vanno a vedere sì questo video interessante che hanno realizzato appunto ex novo cioè un un progetto creato apposta per 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 questo supporto sì ok quindi un video proprio un contenuto nuovo uscito proprio per l'occasione tra virgolette possiamo dire sì esatto ok senti cara e andrei verso la conclusione attenzione Luca la sfida è intuire come queste esperienze cambia la percezione della realtà stiamo assistendo all'equivalenza dello streaming con il dal vivo alla città del teatro abbiamo parlato su questo Luca Cortina è stato ospite qui hanno fatto un bellissimo progetto sempre per i ragazzi sulla creazione di uno spettacolo partendo da dei professionisti hanno messo a disposizione le loro competenze attraverso dei tutorial che poi si potevano vedere grazie Luca per aver essere intervenuto Rosso Teatro video TPO pubblicato sul Facebook di Assi Digitale ok grazie Linda ok grazie Chiara eccetera senti cara e andrei verso la conclusione avrei la domanda quella da un milione di euro ovvero come immagini il teatro del dopo coronavirus però in parte hai già risposto parlando dell'importanza comunque di fare rete e di come dire fare anche come dire scambi di opinioni a livelli sia istituzionali che relazionali questo ci vuoi salutare con una battuta sul teatro del dopo corona tutte se ne stanno già facendo tante le battute sulla dopo ieri un nostro collega ha mandato le foto delle brandine dicendo delle due sdraio con l'ombrellone e intorno la copertura un sogno per me ah no il teatro no in spiaggia è un sogno no no invece no è la prospettiva del teatro per cui i battuti già se ne sfregano no in realtà no io sinceramente la mia speranza appunto tu dicevi prima si stanno dicendo tante cose si stanno dicendo tante date io che sono un'inguaribile romantica è un'ottimista penso penso sempre che volendo anche per quest'estate si potrebbero anche perché veramente lasciare vuoti non presidiati i territori appunto lasciare le persone sole in una fase anche di ritorno alla vita secondo me è un errore sarebbe un errore e pensare a delle opportunità delle possibilità anche quest'estate per poter vivere insieme delle esperienze culturali secondo me molto importante qualche giorno fa appunto un assessore della regione aveva una cosa appunto una battuta che è appunto la Miniti Gabrielli che sembrava che è stata per noi una iattura enorme soprattutto per chi fa appunto non fa grandi eventi è stata un'assurdità diciamo ci può tornare utile come esperienza perché magari quest'estate appunto il transennamento di aree con le sedie distanziate l'ingresso dei bigliettini che è stata una procedura che siamo stati costretti ad adottare anche per delle iniziative assolutamente non calibrate su questo tipo di richiesta rispetto alla sicurezza ecco sfruttare questa iattura per capire anche quest'estate se fare come fare qualcosa potrebbe essere un suggerimento interessante certo questo è importante lo devono capire bene anche le amministrazioni ovviamente nei territori in cui ognuno poi opera io volevo leggere gli ultimi interventi intervallo teatro scrive speriamo rimarrà la consapevolezza che la comunicazione per il teatro è il rapporto con il pubblico e il rapporto con il pubblico deve avere una connotazione anche digitale e questo io lo spero mi sembra che sia la direzione sia un po' quella Gaia è interessante anche questa apertura al confronto internazionale ok perdonate la grammatica ok cara io ti ringrazio moltissimo ci sono stati tantissimi interventi scritti questo significa comunque il tema è proprio come dire c'è un sacco sì esattamente un sacco di di interesse quindi rimaniamo in contatto anche a livello di scambio di cose che accadono per i mail o sui social eccetera io ti saluto direi se non hai qualcosa da aggiungere no anzi ti rubo ti rubo gli ultimi venti secondi per i prossimi appuntamenti che sono domani ora non mi ricordo mai a memoria ok domani con Lorenzo Donati critico teatrale giornalista per altre velocità non solo il 16 aprile ci sarà con noi favorizio cavosto direttore del fest al mirabilia col quale affronteremo il discorso del circo del teatro di strada e lì sicuramente torneremo sul fatto degli spettacoli all'aperto eccetera poi sto organizzando gli ultimi appuntamenti finiamo lunedì con la quarantesima edizione e poi martedì c'è una sorpresa ma ve la dico tutti Linda grazie grazie mille a presto ciao ti chiudo ciao ok grazie Linda anche per oggi è andata vi ricordo una cosa importante che alle 4 sul canale instagram di Anghiari Dance Hub continuano gli abbracci di Anghiari Dance Hub ai coreografi delle passate edizioni oggi con noi ci sarà Tommaso Monza quindi alle 16 fra 27 minuti ma non qui su Anghiari Dance Hub la faccia è sempre la mia comunque ciao ciao